Moderno, modernità, postmoderno, modernismo, sono parole che si usano continuamente e con una facilità, anzi con una facile oneria che naturalmente determina una serie di equivoci, di difficoltà in effetti di comprensione. In l'idea massima, quando si dice moderno, si pensa vagamente al mondo contemporaneo, non si chiarisce mai con assoluta precisione, in realtà quando più o meno comincia di che cosa si sta parlando. Appunto anche le parole conseguenti tipo postmoderno, tarda modernità e modernismo diventano opache, vaghe approssimazioni. Naturalmente questo è normale, in fondo il linguaggio non è mai nella nostra, come dire, umanità un mezzo per chiudere definitivamente il senso delle cose. Ogni parola è sempre un'approssimazione, un modello che semplifica ma che lascia evidentemente, proprio nelle relazioni con le varie situazioni, alla pragmatica, insomma alla contingenza, la continua sfrangiatura del significato che si vorrebbe avere. La definizione di un termine, quello che per esempio esiste nei vocabolari, è effettivamente un tentativo di mettere dei limiti a questa contingenza del divenire, ma appunto basta aprire un dizionario di qualunque lingua e probabilmente troveremo che per ogni termine ci sono 5, 6, 10, 20 lemme diversi a dire che quella parola in realtà non ha un significato ma ne ha tanti e stiamo parlando ovviamente di quello che tecnicamente si chiama denotato. Il connotato ovviamente poi significa grossomodo l'apertura a tutti i significati possibili in rapporto alle connessioni possibili che si possono immaginare. Fatto questa breve premessa, come dire, metodologica, torniamo alla parola moderno. Nella tradizione di quelli della mia età la parola in genere veniva incontrata, in particolare studiando nei licei, quando si arrivava al quarto anno e ci si trovava tra le mani con un libro di storia che era allora in genere intitolato Storia dell'età moderna o vagamente età moderna. In genere i limiti temporali erano grossomodo dal 1500 alla fine dell'Ottocento. Era questa e l'evi massima l'idea di moderno che veniva proposta. L'unica specifica specializzazione però era esattamente questa qua. Se ne parlava proprio come un fatto di storia. Tutto il resto vagava. Naturalmente in contemporanea si studiava, che so, storia dell'arte, storia della letteratura, ma con una più che, come dire, lasca corrispondenza in cui non ci si preoccupava in fondo di mettere in connessione quell'aggettivo relativo alla storia con le altre discipline. Oggi naturalmente la questione è molto più determinante. sappiamo che, come dire, dire le parole, denominare gli oggetti, le persone, i fenomeni, significa in qualche modo governarle. E il potere, insomma, è in qualche modo tipicamente umano di creare la realtà e proprio attraverso le parole. Quindi non è più un fatto, come dire, di dizionario, di pura nomenclatura da gioco, come dire, di enigmi puramente giocosi. Ma è davvero la possibilità, poi, di orientare le cose e quindi le persone. Quindi il tentativo di dire oggi che cos'è il moderno, evidentemente è un'ambizione, non è un gioco, come dire, strettamente accademico. Per intenderci, la prima cosa che necessariamente adesso opera nella ambizione di entrare in questo problema è precisare che occorre un metodo e, appunto, il metodo è quello filologico che, a sua volta, parlando di parole, non può che avere ormai l'ambizione di essere soprattutto etimologia. Etimologia è storia, naturalmente, e dire che le parole non nascono e basta, non sono, come dire, non gemmiano da nulla, ma sono sempre portatrici di una serie di elementi che, come dire, creano in noi anche maggiore o minore consapevolezza. Appunto, la filologia è frutto, possiamo dirlo fin da adesso, e anzi è causa e frutto della modernità. Comunque, l'etimologia significa che ogni parola ha una base storica e non solo, oggi con la linguistica contemporanea, per esempio quella di Lacoffe, abbiamo delle certezze abbastanza, come dire, garantite che la semantica in particolare è all'origine inevitabilmente nient'altro che una denominazione dello spazio e così vale anche per la sintattica e via di via di questo passo. Questo, come dire, ci basti come punto di riferimento teorico e allora andiamo a guardare, per esempio, in particolare davvero questa parola. Moderno, ovviamente, è un aggettivo che poi può essere usato come sostantivo, che è alla base di concetti come modernità. Moderno viene appunto dal latino. Per la precisione, all'origine c'è un aggettivo latino che è modernus, ma è un latino tardo. Nella classicità questo aggettivo non esisteva. Nella classicità esiste sicuramente l'aggettivo modo, che vuol dire ora, recentemente. Quindi modernus, come dire, implica un riferimento a qualcosa che è recente di per sé. E questo sembra spiegare tutto. L'inimassimo è questo che si trova sui dizionari, anche quelli etimologici. Ma all'origine di questo avverbio c'è in effetti un sostantivo e c'è anche un verbo. Il sostantivo latino classico è modus. Quello che si trova ad esempio nell'espressione oranziana di est modus in rebus, che appunto, immagino che molti ricordino, significa in fondo c'è una misura nelle cose, cioè c'è una regola, c'è una norma, che però si chiedisce meglio nel concetto se ci spostiamo sul verbo. Il verbo è moderor, che vuol dire fondamentalmente dare una regola, governare, misurare. Insomma, diciamo che è equivalente di quello che a sua volta si può citare come una caratteristica della cultura greca, l'idea cioè che l'uomo è la misura delle cose. Il modus, il moderare, significa che a livello di situazioni particolari è necessario, come dire, cambiare regola. Moderare significa adattarsi alla situazione. Ora, è evidente che questo, come dire, è un lavoro strettamente etimologico. Ma vediamo perché a un certo punto, verso la fine del Cinquecento, del Seicento, comincia tra le altre cose a venire fuori una polemica, come dire, culturale dell'epoca, tra gli antichi e i moderni, e allora che questa parola comincia ad avere, come dire, effettivamente diffusione abbastanza ampia. Ed è in atto, in sostanza, uno scontro, come dire, tra due visioni del mondo. In pratica, una visione, diciamo pure, tradizionale, quella che ha a che fare con l'idea che il mondo è questo, e si tratta solo, come dire, di mantenerlo per quello che è, oppure l'idea che il mondo è a disposizione dell'uomo. Allora, dalla storia, appunto, noi sappiamo che dopo la scoperta dell'America, e con la novità anche di Copernico, si sta, in realtà, modificando proprio il modo di pensare al mondo. Fino a questi eventi, non solo, l'idea chiave era che il mondo fosse un sistema fondamentalmente statico, chiuso. Appunto, è una realtà che vede, come dire, un centro, la Terra, e anche una specifica, ristretta quantità, diciamo, di terre, entro cui si è già verificato tutto, cioè è arrivato dopo il peccato, il momento della rivelazione, e quindi, come dire, sono segnate con facile evidenza le strade del bene e del male, che è poi quello che, per esempio, troviamo nella Divina Commedia. Bene, nel momento in cui, però, con la scoperta delle Americhe e con la nuova rappresentazione dello spazio celeste, sia la percezione improvvisa che i confini del mondo sono aperti, ebbene, evidentemente, comincia a essere messa in discussione l'idea che, davvero, l'unico modo per stare al mondo è quello di ripetere quello che si è sempre detto e fatto. Insomma, la tradizione, la sapienza, l'antichità ha, come dire, la sicurezza che esiste una dimensione, come dire, abbastanza stratificata di gesti, di eventi, di verità, che sono, di fatto, in genere contenute in un libro, in una tradizione sapienziale. Insomma, nell'anziano, nell'antico, che è sacro, va cercata la soluzione per i problemi che si propongono. Anche di fronte alle catastrofe, alle novità imprevedibili, la chiave è sempre una. Affidiamoci, appunto, a quello che hanno fatto gli antichi. Ma, appunto, di fronte a questa nuova condizione, di fronte, in particolare, anche alla, come dire, paradossale situazione di Colombo, che parte per arrivare da un lato e se ne trova altre di evidenze, si chiarisce che davvero, come dire, i limiti non sono già stati definiti una volta per tutti, che c'è spazio per l'esplorazione, che significa andare fuori, andare al di là di quella che è la frontiera, reale e anche semplicemente mentale, e quindi che il mondo non è finito. Insomma, si ha una nuova percezione della realtà, almeno per una gran parte rimane semplicemente ferma, ma per quella parte che, in fondo, ha una esperienza, come dire, coscienziale delle cose, il mondo comincia ad apparire non finito. E a questo punto, evidentemente, comincia a diventare inevitabile non l'automatico riferirsi alle tradizioni, alle regole, alle cose consuete, ma ha bisogno di misurare, appunto, la realtà. Misurare lo spazio, ed è evidente nel caso dei viaggi d'esplorazione, ma anche misurare, in un certo senso, il tempo. In pratica, l'azione umana necessaria per vivere, per quello che, appunto, viene allora definito, in qualche modo, l'homo faber, è quello della misura. E misura, appunto, in latino, è moderari, moderò. Significa, appunto, capacità di, anzi, senza capacità, significa effettuare delle misure, ovvero dare un modus, uno stile, se vogliamo, una misura adeguata alle situazioni volta a volta. Insomma, è chiaro che l'uomo faber è proprio questo uomo che, per fabbricare le macchine con cui agisce sulle cose, deve prendere le misure. Insomma, che so, un tavolo è il legno, ma il legno può diventare tavolo solo se l'uomo, se è farignano, insomma, prende delle misure, se è capace di dargli una forma. E, appunto, per farlo deve misurare il materiale che ha tra le mani. Non è un libro sacro che insegna a fare un tavolo, ma è, appunto, la capacità tecnica di prendere le misure, ovvero, è l'uomo che, al di fuori della metafora del tavolo, deve prendere volta a volta l'iniziativa di inventarsi delle procedure per misurare, ovviamente, il legno, la terra, ma anche, appunto, il tempo. Insomma, deve attivarsi di più su quelle che, allora ancora si chiamavano arti meccaniche, che sono quelle che, davvero, sono in grado non solo di procurare oggetti d'uso immediato, ma sono, in effetti, lo schema concettuale che può consentire all'uomo di trasformare il mondo. Quindi, è una vera e propria trasformazione antropologica. All'uomo comunitario, quello che vive in tribù o in piccoli gruppi, che quindi inevitabilmente contento di ripetere i gesti di sempre, sulla base di quel sapere sacro dello sciamano, del clericus, insomma, o dell'anziano, si accompagna, si comincia ad accompagnare l'antropologia del modernus, cioè dell'uomo che è capace di prendere iniziative nuove, modus, quindi comincia a significare nuovo, modo, nel senso di recente, appunto, che si dedica alle res nuove in fondo, e vuole quindi sostituire alle pratiche tradizionali pratiche nuove, che ha, insomma, il coraggio di rischiare, di andare al di là del consueto, e si assume, quindi, in prospettiva, la possibilità di misurare il tempo, cioè di costruire il futuro. E' qui che, in qualche modo, davvero, si comincia a parlare di modernità, nel senso che abbiamo probabilmente di più in testa noi. C'è l'idea del futuro, se nella tradizione il tempo è ciclico, e quindi è la ripetizione che crea inevitabilmente quiete, sicurezza, basta ripetere, perché le cose funzionano più o meno sempre allo stesso modo, e invece l'idea del futuro che apre alla possibilità di innovare, e con tutti i rischi e anche però l'entusiasmo che porta l'idea. moderno, insomma, è chiaramente la capacità per l'uomo di dare un nuovo ordine al mondo, sostanzialmente finirà per essere la razionalità, la razionalizzazione, quindi la razio come mezzo strettamente umano che corrisponde all'idea della misura. E razionalità, e razionalizzazione, come dice la parola, è la capacità di mettere a posto, di raddrizzare quello che naturalmente nella natura non lo è. L'immagine immediata è quella del giardino all'italiana che prende gli alberi e li struttura in modo tale da formare linee, figure geometriche, da creare quindi strade percorribili in modo assolutamente chiaro, preciso, che cominciano in un posto e vanno a finire laddove io voglio che vadano a finire. Insomma, il mondo è un campo per creare misure, per creare razio ones, e in termini temporali è il tempo, uno spazio aperto per fare progetti, per fare la storia, fino all'ambizione quali utopia. Ma naturalmente non dobbiamo dimenticare che in realtà modus e moderor significano fondamentalmente guidare, sì, ma in modo adeguato alle situazioni, alle circostanze, cioè dell'idea stesso di moderno, non c'è l'ambizione della ibris dell'eccesso, ma l'idea dell'adeguarsi alle situazioni. Insomma, questa fiducia nella capacità umana di essere attivo, protagonista della storia, ha naturalmente questa base, diciamo, storica, che però a sua volta ha delle origini molto più profonde e di sostanza, cioè non può essere semplicemente l'atto di Colombo o l'atto di Copernico a modificare davvero l'antropologia. C'è da qualche tempo, per esempio nella realtà economica, la rivoluzione commerciale che progressivamente sta, come dire, producendo una particolare fiducia nella capacità umana di produrre appunto risultati positivi nel momento in cui si è, come dire, si è capaci di adeguarsi alle situazioni. La efficienza e non la regola è il criterio che regola l'attività del mercante. Quello che conta è ottenere i risultati, per farlo bisogna essere capaci di moderare, di adeguarsi, di trovare il modus in rebus adeguato, insomma. E allo stesso modo qualcosa di più teorico avviene nell'ambito culturale quando all'inizio del Quattrocento, da Petrarca in poi, si comincia a recuperare in modo specifico la filologia, cioè la lettura dei classici antichi, non più affidata al dogma tradizionale del clericus, ma la nuova capacità del singolo, come dire, individuo e che è capace di misurare, appunto, e di misurarsi ovviamente, il testo antico in base alle proprie nuove capacità. Cioè, in pratica, l'idea che viene fuori anche dalla filologia è che non esiste una unica via per leggere un testo, ma ne esistono tante quante e, come dire, sono le capacità individuali di mettere in collegamento un testo con altri testi e con altre conoscenze. Insomma, è qui che viene fuori progressivamente quest'idea che l'uomo è capace, a seconda delle situazioni, di cambiare rotta, appunto, di ottenere risultati più efficaci. Insomma, l'aggettivo moderno da questo momento in poi comincia a significare non solo la capacità, quindi, di porre limiti, motus, limitare, frenare, regolare in singole situazioni contingenti, di orientarsi, insomma, e cavare soluzioni efficienti in situ, ma una vera e propria etica, una vera e propria antropologia del cambiamento, del dirigere, del condurre e del progettare. Insomma, si passa fondamentalmente dall'idea di uno spazio chiuso a uno spazio aperto, dal finito al non finito, e quindi da un'idea di ripetizione a un'idea di trasgressione, quindi di novità che va misurata, che è uno spazio nuovo che va, come dire, riconosciuto attraverso la misura. E il tempo, da ciclico allineare, quindi dalla ripetizione alla linearità, alla progettualità, dall'idea di un telos che ci aspetta, che però va costruito, va identificato, che non è già ben identificato, e quindi l'individuo che è semplice ripetitore, da semplice esecutore, la sacrale rispettoso servo di regole, a Faber, che prende il compito su di sé, la responsabilità su di sé di ridurre il non finito che ha davanti in onde finite, appunto a costruire cose con le frontiere, come ad esempio stati, nazioni, luoghi più controllabili come ospizi, ospedali, fabbriche, scuole, insomma. Il criterio fondamentale di tutta questa attività nuova appunto non potrà essere una norma sacrale da qualche parte già preesistente, ma solo il risultato, l'efficienza, l'utile, sia a livello sociale che a livello individuale. Quindi in pratica abbiamo il moderno che coincide con parole come razionalità, meglio, razionalizzazione e utilitarismo. Naturalmente a questo si accompagna anche l'idea di individuo, di giovane. Se tutto quanto nella società comunitaria si lega al passato, alla tradizione, all'antico, inevitabilmente in questo spazio aperto, in questo tempo aperto, la vera differenza la fa l'individuo che è capace di innovare e che è in linea di massima il giovane, ovvero, diciamo pure, rispetto alla regola sociale, l'individuo, il differente. Quello che veniva prima totalmente escluso, veniva scomunicato, espulso per evitare tensioni, attriti, qui diventa invece, viene accettato, viene esaltato progressivamente come l'elemento che produce efficienza. E quindi in senso lato, dal punto di vista della società, si passa da una società, appunto, fredda, che evita la diversità e il cambiamento, a una società calda, che vuole, appunto, accettando la diversità, vuole proprio l'attrito, perché è dall'attrito che si provoca il calore e quindi la efficienza, insomma. E qui, quindi, per sintetizzare la fine, che si ha la capacità di misurare il mondo, trovare soluzioni nuove. Ad esempio, in economia ci sono non più le ripetizioni di pratiche antiche, ma si inventano pratiche nuove, come ad esempio la recinzione, ma soprattutto si creano anche teorie nuove, ma diverse tra loro, come possono essere la fisiocrazia e la sefera, così come in politica. La novità è lo Stato, lo Stato laico, che fonde il diritto, ma all'interno di questo formule diverse, perché ognuna assicura un tipo di efficienza, come l'assolutismo e il parlamentarismo, oppure, per esempio, le riforme o le rivoluzioni e ancora la democrazia e via via, la conservazione, il cambiamento, insomma, e tante altre soluzioni, fino alle esagerazioni, chiaramente, nel Novecento, che in realtà hanno già ormai dimenticato il significato della parola moderno, alla moderno che significa, abbiamo detto comunque, moderarsi, limitarsi, e arriva invece il momento della irrazionalità, della ibris, dell'eccesso, del dannunzianesimo in termini individuali. E così, appunto, nell'ambito culturale abbiamo soluzioni diverse, come man mano, ma anche in contemporanea, di nascimento, barocco, illuminismo, romanticismo, positivismo, appunto, per arrivare poi, e se è esaurita questa esperienza, come dire, di tentativi e chiaramente anche di fallimenti, arriva l'idea dell'irrazionalità novecentesca con, e quindi, il modernismo e, appunto, il kitsch. E in ambito strettamente individuale, modelli come, appunto, l'uomo faber, che portano, appunto, anche alla combinazione continua dell'uomo che si adegua alle regole sociali, e dell'uomo economicus, dell'uomo, come dire, libertino, che va ricercando assolutamente l'affermazione della propria differenza, e anche in termini sociali, quindi, il modello di una società inclusiva o esclusiva, una società ferma o mobili, di una società che coopta o distingue e riconosce il merito, e qualitarista, una società giusta, una società di differenza, insomma, in pratica, il moderno è una sorta di sperimentazione che l'uomo attribuisce a se stesso sulla natura e sul tempo. E quindi, appunto, inevitabilmente abbiamo una molteplicità che va di volta in volta ad accompagnare l'aggettivo moderno.